Fine settimana di controlli per la Polizia Municipale di Arezzo, sotto la lente di ingrandimento gli angoli della movida retina. Un barista nel centro di Arezzo è stato denunciato per aver venduto alcolici a minori di 16 anni, come vettato dalla legge. E' sempre il titolare del locale, stato inoltre sanzionato per aver somministrato bevande alcolici a giovani tra i 16 e i 18 anni. Quindi questo determinando, nel caso degli infradiciottenni, delle sanzioni amministrative, nel caso invece degli infrasedicenni, un procedimento penale per la violazione dell'articolo 689 del codice penale. Sempre nello scorso fine settimana in via Provenza, inoltre un altro giovanissimo, un quattordicenne, è stato sorpreso da gente in borghese con alcune dosi di ascisce e mariguana per uso personale. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura. Questo deve allarmarci un pochino perché chiaramente si sta abbassando il target dell'età di questi ragazzi che cominciano a entrare nel circuito della sostanza stupefacente. Dall'attività della Polizia Municipale emerge dunque un consumo di alcol e stupefacenti tra i minori, anche giovanissimi, sia ragazze che ragazzi. Questo purtroppo è un dato di fatto che non è aretino, è purtroppo un dato di fatto italiano. Credo che sia giusto focalizzare la nostra attenzione perché purtroppo noi stiamo affrontando delle fasce d'età secondo le quali, secondo me, a mio modesto parere, ancora non hanno la maturità per capire le problematiche che l'uso di queste sostanze, non solo stupefacenti, ma anche quelle alcoliche, possono avere sulla loro salute. E anche, devo dire, l'utilizzo degli autoveicoli in condizioni psicofisiche non idonee a condurli ci sta portando proprio a... perché è un veicolo, chiaramente per noi è anche un ciclomotore e quindi lo si guida anche con un patentino e quindi questo ci induce a pensare che effettivamente questa è ormai una realtà anche qui.